Un momento di intensa spiritualità, di profonda riflessione, quella vissuta dai tanti fedeli che hanno preso parte alla Via Crucis, che come di consueto ogni anno precede la solennità di Cristo Redentore. Un cammino, quello della Via Crucis, attua a commemorare la Passione di Cristo, che ha attraversato l'intera salita di Monte San Giuliano, per poi concludersi dinanzi alla Cappella del Santuario del Redentore, dove è stata celebrata la Santa Messa, presieduta da Padre Giuseppe Anfuso. Per tutte le domeniche di agosto, nello spazio antistante al monumento, è prevista la celebrazione del Santo Rosario alle 19 e della Santa Messa alle 19.30. Iniziamo oggi la nostra preparazione al grande evento della redenzione di Cristo Redentore attraverso la Via Crucis e poi la celebrazione eucaristica. La Via Crucis è il cammino di Cristo verso il Calvario. Vogliamo ricordare quei momenti perché non siano soltanto i momenti di Cristo, ma siano anche i nostri momenti. Perché noi siamo chiamati a dire insieme con San Paolo, non sono più che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. Perché l'uomo che è stato redento, salvato dal Signore, vive il mistero della vittoria di Cristo sul peccato e vive la libertà della grazia, di quella grazia che ci spinge ad andare sempre avanti e che ci spinge a sapere di essere figli di Dio e come dice San Giovanni lo siamo realmente. Perché il Padre ci ha dato Cristo, Cristo ha dato la vita per ognuno di noi e Cristo ha invocato il Padre perché ci desse lo Spirito Santo a conforto e a forza della nostra vita cristiana. Quindi questo cammino che vogliamo fare è un cammino di fede, un cammino di speranza, un cammino di amore verso Dio. Vogliamo fare quello stesso cammino perché noi viviamo nella nostra vita ciò che manca ai patimenti di Cristo e vivere proprio le nostre responsabilità, i nostri impegni come Cristo ha vissuto quel dono della responsabilità di salvare l'umanità nel nome del Padre, vivendo nella perfetta obbedienza al Padre. Ciò che caratterizza proprio nella vita del cristiano nisseno e lo vediamo e l'abbiamo visto in questi giorni è questo vivere con Cristo e di Cristo, non ci sono state neancurie né altre cose, c'è stata la gente che ha pregato e noi già abbiamo visto quanta gente c'è ai piedi di questo Monte San Giuliano ad attendere per la Via Crucis e allora ci rendiamo conto che c'è una grande fede, che c'è questo voler vivere veramente nella vita di Cristo per essere con Lui una cosa sola perché tutti noi abbiamo bisogno del Signore.